buongiorno e benvenuti a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qua con me inquadrata il mio canale dedicato all open source e la tecnologia del mondo dell'informatica in generale e quest'oggi come tante altre occasioni andremo a parlare di zabbix perché perché nella nostra community e ve lo ricordo tutte le volte telegram zabbix italia è il nostro canale dedicato a tutte le informazioni su zabbix ci siamo veramente in tantissimi mancate solo voi e quindi iscrivetevi e tramite la community di zabbix molte persone mi hanno chiesto ma perché non parli di come configurare la ricezione delle trap all'interno di zabbix ottimo tema perché effettivamente non è proprio semplicissimo cioè per lo meno per chi non l'ha mai fatto magari potrebbe essere un pochino più complicato ok quindi andiamo a vedere insieme cosa fare di base quali sono gli step fondamentali per attivare questa funzione ok se andiamo nella documentazione e quindi ci muoviamo qua quindi documentazione ufficiale è sempre il punto di riferimento questa è quella dedicata alla 62 ma non è che cambia molto alla 60 qua c'è tutta la trattazione spiega in linea di massima in generale come funziona zabbix e la ricezione delle trap vi fa vedere quali sono le item key da utilizzare quindi abbiamo snmptrap con una regular expression e snmptrap.fallback che è un'altra speciale item altre cose fondamentali sono chiaramente l'abilitazione all'interno dello zabbix server o proxy conf delle direttive start smptrap trapper 1 e poi dove si trova il file che poi andremo a vedere insieme verrà depositato dal processo che si chiama snmptrap d ok quindi qua lo zabbix andrà a cercare le trap da leggere e da utilizzare all'interno del motore poi qui c'è una trattazione su come gestire appunto questa ricezione delle trap principalmente ci sono tre metodi ok per poter manipolare le trap che riceviamo dallo zabbix server o da uno zabbix proxy ok perché tanto tutte e due possono ricevere delle trap abbiamo la soluzione con perl trap receiver la configurazione con smptpt e poi anche un eventuale configurazione con il bash dello script bash che trovate più avanti qua da qualche parte se non la trovo più ma comunque c'è qua all'interno della della pagina inoltre la trattazione chiaramente parla sia delle trap v1 e v2 che sono quelle più semplici senza rogne quelle più vecchie e più classiche ma anche della gestione delle snmpt trap di tipo v3 ok quelle più complicate perché hanno encoding e password ok quindi possono avere un bel po di problemi in più rispetto a quelle più banali senza codifica di tipo v1 e v2 che quindi la trattazione qua nel file di configurazione c'è direi che non è malvagia chiaramente secondo me dopo che avete già visto questo video forse diventa più chiara ok quali sono i metodi da me utilizzati maggiormente per gestire la ricezione delle trap quello in modalità pearl ok perché perché ormai lo uso da tanti da tanti anni mi sembra quello più carino più lineare meno rognoso e nessuno dei due forse dei tre anzi è il migliore magari quello bash potrebbe essere anche carino perché non l'ho mai usato devo dirvi la verità quindi potrebbe essere anche un qualcosa da andare a vedere ma l'Snmptpt direi che invece è molto più complicato perché a un certo punto adesso non so più se esiste ancora ma nei repository ufficiali di Red Hat o Rocky Linux 8 non c'era l'rpm quindi il pacchetto ufficiale snmpt in più per farlo funzionare bisognava configurare un insieme di file e definire in maniera abbastanza puntuale come gestire ogni tipologia di trap quindi devo dirvi la verità preferisco la versione pearl perché mi sembra più ricca e più interessante andremo a vedere infatti quella SNMP con gestione pearl perché appunto è quella che conosco meglio quindi andiamo a vedere come si fa a partire con l'installazione di tutte le cose che ci servono per poter ricevere queste trap quindi qua vi faccio vedere ops una breve guida di base su Rocky Linux 8 o Red Hat 8x quindi che sono le mie distro che utilizzo di più basta solo fare un dnf install net-snmp-pearl e lui si porta dietro tutte le dipendenze tutte le dipendenze che praticamente dovrebbero essere queste espanse ok quindi prendendo quel pacchetto dovreste portarvi a casa tutte le altre che sono utili per poter poi procedere nel fare i test e nel ricevere le trap dopodiché cosa è fondamentale fare attivare questa cosa qua etcsnmp.conf probabilmente non avrete questo file createlo e mettete all'interno questa direttiva in pratica stiamo andando a istruire la nostra distribuzione nel gestire la ricezione e l'utilizzo delle trap ma in generale delle MIB ok perché possono essere SNMP trap o anche delle query con le relative MIB ok le MIB non sono altro che delle definizioni delle una forma più gergale più umana delle informazioni che arrivano tramite le trap o le query SNMP perché perché il più delle volte se voi avete mai visto come sono fatte queste SNMP query o trap avete un insieme di numeri 1.3 4 5 robe di questo tipo ok che sono veramente difficili da capire ma soprattutto non ci danno molte informazioni è veramente complicato dire ok che cosa sto leggendo e le MIB servono a questo a trasformare questi numeri a volte incomprensibili in qualcosa di più leggibile da un essere umano e in più anche le risposte i valori di ritorno possono essere trasformati all'occorrenza con delle mappe valori perché magari abbiamo uno che è uguale offline 2 online eccetera ok quindi diventa più facile leggere cosa sta succedendo quando riceviamo questa trap o quando facciamo un SNMP query ok quindi questo parametro qua è fondamentale io qua sto dicendo utilizza questa directory che è quella di default dove già in qualunque sistema avete già un set di MIB che sono quelle di default quelle più comuni le più standard dopo di che con il separatore due punti ho introdotto una nuova directory etc zabbix MIB perché? perché secondo me conviene creare una directory ad hoc per tutte le MIB che utilizziamo noi tutti i giorni all'interno di zabbix evitando di mescolare quelle che arrivano dalla vostra distribuzione e quelle che invece ci servono per lavorare ok in modo tale da avere due separazioni ben distinte creato questo file dobbiamo andare a configurare invece il servizio che si chiama snmptrap.d all'interno di etc snmptrap.d.conf è veramente facile dobbiamo solo attivare la direttiva out community execute e poi public che public vuol dire che cosa? la famosa community ok quando lavoriamo con le trap v1 o v2 quando dovete configurare il vostro dispositivo vi chiederà di sicuro la community qua normalmente o generalmente quella più nota è la public ma se voi voleste aggiungere altre community ad hoc basta solo aggiungere un'ulteriore riga e scrivere secret per esempio che un'altra community ok poi l'altra informazione importantissima perché altrimenti non funzionerebbe nulla è la direttiva perl do e poi lo script che vogliamo fargli fare eseguire all snmptrap.d per poter gestire le trap che riceve questo script lo trovate già all'interno dei pacchetti Zabbix ok? si chiama zabbix-trap-receiver.pl ed è già disponibile nei pacchetti Zabbix l'unica cosa che mi sono accorto e ho aperto anche una issue su support.zabbix.com già tempo fa è che il var binding cioè la trasformazione del valore ricevuto tramite una trap non veniva esploso utilizzando le MIB quindi ho fatto una piccola modifichina all'interno di questo Zabbix trap receiver per fare in modo che si espandano anche i valori ricevuti dalle trap ok quindi funziona quello che c'è già c'è solo questo piccolo accorgimento magari poi vi linko tutto nella descrizione del video ok? dove poter trovare quello modificato dal sottoscritto ok? detto ciò noi possiamo far funzionare le trap all'interno del nostro Zabbix quindi muoviamoci sul nostro Zabbix quindi sulla console e andiamo a vedere quei file che vi ho fatto vedere prima quindi un metodo che molte volte utilizzo per andare a vedere quali sono i parametri configurati all'interno del file di configurazione dello Zabbix è questo mix di comandi da shell perché così mi filtra tutte le righe remmate ecco come vedete non so spero che si legga abbastanza le direttive che a noi interessavano erano questa quindi l'attivazione dei processi dedicati start snmp trapper uguale a 1 e poi la direttiva snmp trapper file quindi dove c'è il file che arriva dall snmp trap d in modo tale che lo Zabbix possa intercettare queste informazioni utilizzarle all'interno del motore di Zabbix ok? quindi questi sono fondamentali di default non sono attivi quindi attivateli altrimenti non funzionerà nulla poi abbiamo il file che dicevamo prima snmp.conf che di base non esiste probabilmente nella vostra distro createlo poi esiste un'altra cosa importante che mi stavo dimenticando dicevamo l'snmp trap d daemon ok? quindi il servizio che rimane in ascolto sulla porta 162 della vostra macchina udpi nell'attesa che arrivi qualche trap questo demone ha un file di configurazione dedicato e però il più delle volte quando lavoriamo con systemd ci tocca lavorarlo in questa maniera systemctl edit snmp trap d e andiamo ad aggiungere il questa direttiva qua option uguale e poi tutta questa cosa qua che va a specificare l'utilizzo delle MIB che si trovano all'interno di questa directory quella che avevamo visto prima quella di default e anche quella dedicata allo Zabbix che avevamo visto sempre in precedenza questo perché nel dubbio nel dubbio perché ci sono variabili d'ambiente eccetera eccetera direi mettiamolo ok? magari non è fondamentale ma mettiamolo ok? detto ciò però dobbiamo configurare il nostro Zabbix ok? quindi probabilmente le trap funzionano anzi vediamo se effettivamente funzionano facendo un test io qua mi sono messo mi sono fatto qualche esempio vediamo un po' eccolo qua questo manderà questo comando qui snmp trap viene ereditato dai pacchetti che avevamo installato in precedenza le net snmp ok? quindi lanciate net snmp meno v1 e tutta questa fardello di informazione questo è l'IP da cui cioè scusate l'IP a cui dovremmo mandare la trap queste sono le trap cioè l'OID che noi invieremo allo Zabbix con un messaggio ok? questo è solo di prova ok? serve solo per vedere se effettivamente funziona quando voi le invierete tramite un dispositivo reale probabilmente sarà molto più complessa vi faccio anche vedere qualche esempio però proviamo con questa l'ho inviata non vi dice nulla di particolare ma andiamo a vedere qua nel tail ok? questo è il tail ve lo faccio vedere da qua del file var log snmp trap snmp trap.log quindi questo file qua ci fa vedere che appunto abbiamo ricevuto questa trap e la cosa carina di quello che vi dicevo prima del pearl è che mi mostra tutta l'informazione che sta arrivando allo Zabbix e tutta l'informazione è proprio questa parte qua che vi ho evidenziato qua abbiamo il timestamp di quando è arrivata la trap questo è una stringa che va a dire allo Zabbix guarda che è arrivata una nuova trap è una specie di placeholder utile a Zabbix e poi l'ip da cui è arrivata questa trap ok? ip o nome DNS io nelle configurazioni che vi ho fatto vedere ho impostato l'snmp trapd per lavorare in modalità ip e non fqdn dopodiché abbiamo informazioni generiche della trap quindi la community e altri dettagli e poi il famoso barbinding quella cosa là che vi dicevo prima cioè l'esplosione di queste informazioni che sono all'interno della trap qua non ce ne sono tantissime ce ne sono alcune proprio basilari ma quella che più importante è questa perché vedete che qui c'è l'espansione di questa variabile di questa variabile che mi dice che il link è andato down ok? quindi questa cosa qua è proprio il barbinding che viene esploso all'interno di una trap altra cosa che effettivamente non vi avevo detto ma è fondamentale è che a noi all'interno di quel file di quel perl script che si chiamava Zabbix trap receiver vediamo un po' se lo trovo perché giustamente quando uno cerca le cose non le trova mai trap, vediamo un po' trap receiver giustamente eccolo qua c'è una direttiva da andare chiaramente a verificare ok? questa qua snmp trapper file cioè dove va a scrivere le trap esplose e poi dove andrà lo Zabbix a leggerle ok? quindi controllate questa direttiva qua nella documentazione c'è scritto di controllare ma ve lo dico anch'io fateci attenzione perché potrebbe essere diverso e quindi questo è fondamentale questa directory qua che debba fare il match con quello che abbiamo configurato all'interno dello zabbixserver.conf ok? quindi occhio, occhio la penna detto ciò diciamo, dicevamo andiamo a vedere cosa bisogna fare sul nostro Zabbixserver ok? quindi la prima cosa da fare chiaramente è creare un host e un host come come volete voi quindi un host name che vi piace un gruppo di appartenenza e poi la cosa invece molto importante molto importante è andare a creare l'interfaccia di tipo snmp ok? normalmente voi avete sempre utilizzato l'interfaccia agent qua invece dobbiamo specificare snmp se non configurate questa interfaccia poi non potremo creare l'item di tipo snmp trap ok? quindi occhio, fate attenzione poi andiamo a introdurre l'ip questi due parametri snpv2 e community non ci servono per la ricezione delle trap ma ci servono per poi fare degli item che andremo a fare delle query quindi non è importantissimo come anche la porta in questo caso quello che dovremmo andare però a fare dopodiché è andare a creare il nostro primo item ok? il nostro primo item che dicevamo deve essere di tipo snmp trap il nome mettete quello che volete e poi la famosa key avevamo detto che per l'snmp trap abbiamo due key una che si chiama snmp trap e basta con un parametro che è una regular expression e poi abbiamo snmp trap fallback ok? cosa cosa sono questi due item e come potreste usarli? allora qua vedete come lo come uso io questo item perché? perché il più delle volte a me piace ricevere all'interno di un unico item tutte le trap di questo dispositivo ok? del dispositivo che io voglio gestire e per fare questo l'escamotage che utilizzo è mettere questa built-in macro host.ip ok? perché metto una macro? perché poi di solito non creo un item ad hoc ma faccio un template mi faccio un template che poi associerò a più host e quindi avere la possibilità di usare una regular expression qua dentro è molto comoda e soprattutto avere una regular expression come in questo caso che è assimilabile poi a tutti gli host che utilizzeranno questo template quindi lo zabbix cosa andrà a fare? andrà a intercettare tutte le trap che hanno quell'indirizzo ip e quell'indirizzo ip ce l'avremo di sicuro perché lo abbiamo visto prima che l'ip di ricezione del del nostro della nostra trap c'è sempre ok? quindi può essere molto comodo poi type of information testo ok? ricordatevelo perché altrimenti gli altri formati non andrebbero bene ecco la differenza tra snmp trap e fallback qual è? è che con questa noi andiamo a prendere tutto ciò che matcha la regular expression con invece fallback e non ha parametri praticamente è un item che ci serve per tracciare tutte quelle trap che non vengono intercettate da quest'altra da questa regular expression allora il caso mio con questo uso qua non serve praticamente mai a niente la fallback ma ci sono dei casi d'uso in cui è meglio avere un item specifico per ogni trap ok? mettiate che voi avete delle trap dedicate power supply cpu eccetera e volete avere degli item dedicati dove noi andiamo a ricevere a ricevere solo queste specifiche trap allora in quei casi dobbiamo creare più item di tipo snmp trap con una relativa regular expression che va a prendere proprio solo i power supply o solo le cpu quindi solo i messaggi dedicati a quelle tipologie di errore tutto il resto volendo lo potrei trappare dentro nell'item key che si chiama snmp trap fallback ok? quindi tutto quello che non viene preso dagli item standard trap standard viene buttato dentro nell'item fallback e questo il significato di questi due item detto ciò altro parametro fondamentale che se non avete configurato l'interfaccia snmp non vedrete è proprio questo host interface ok? perché io ne ho solo una e vedete che mi fa selezionare quella che mi serve ne avessi avute di più avrei dovuto scegliere quale era l'interfaccia da utilizzare per la ricezione dell'snmp detto ciò poi gli altri parametri sono i periodi di storicizzazione eventuali preprocessing eventuali tag ma per quello che dobbiamo fare noi è sufficiente questa visualizzazione cosa succede quando riceviamo le trap su questo item andiamo a vederlo eccolo qua questo è proprio l'item magari ve lo faccio vedere direttamente dai latest data ok? questo è il nostro item vedete che l'ultima ricezione 8 minuti fa e poi c'è il contenuto dell'elemento ricevuto andiamo a vederlo nello storico e vedete che non ho una riga cioè non ho un unico dato una unica stringa eccetera ma ho tutta la trap ok? tutta la trap bella completa perché preferisco avere tutta questa informazione? perché il più delle volte nei casi di vita reale abbiamo più barbinding qua quindi molte più informazioni che ci potrebbero essere utili all'interno dei trigger o per esprimere in maniera più dettagliata il messaggio di errore e quindi preferisco questa visualizzazione per non escludere eventuali informazioni utili che ci potrebbero essere d'aiuto nella gestione di un eventuale problema detto ciò proviamo a vedere anche se vi mando una trap cosa succede ne mando un'altra come abbiamo fatto prima test video ok? vediamo un po' se il nostro Zabbix la riceve e faccio forzo l'aggiornamento eccolo qua vedete? test video l'abbiamo ricevuta poco fa proprio qualche secondo fa e direi che funziona detto ciò però cosa dobbiamo fare ancora? dobbiamo creare un trigger e la soluzione migliore per creare un trigger come vedete qua è utilizzare per esempio un find un cerca in questo caso gli ho detto cerca la parola link down è veramente molto semplice questo questo trigger normalmente l'ok event generation è a non perché non ci sono molti dispositivi che possano fare una possono generare una trap di recovery se fosse così potremmo creare qualcosa di più complicato tramite le recovery expression e i tag quindi una tag correlation ma facciamo le cose semplici e quindi diciamo che non abbiamo dei messaggi di recovery quindi la trap viene mandata e poi il trigger lo dobbiamo spegnere noi con allow manual close ok? quindi questo tipologia di problema dovete spegnerla voi a mano quale altro parametro potrebbe essere utile? questo problem event generation mod singolo che il più delle volte è così ma multiplo nelle trap potrebbe essere utile perché? perché link down potrebbe arrivare da un'interfaccia dello stesso di un dispositivo ma magari questo dispositivo ha dieci interfacce e potrebbero andare giù tutte e quindi come faccio a discriminare se è andata giù l'interfaccia 1 2 3 4 5 se metto singolo non si potrà fare se metto multiplo sì e quindi mi genererà più problemi che matchano con la find che abbiamo fatto qua dentro dopo di che però il messaggio dovrebbe essere personalizzato in base al contenuto della trap e quindi vedete questa piccola complicazione questa funzione qua item value con il parametro regular sub quindi cosa andiamo a fare? nel documento ufficiale di Zabbix nella documentazione ufficiale c'è proprio tutta la trattazione di come utilizzare questi item quindi delle macro built in di Zabbix con il parametro regular expression quindi qua andremo a mettere un pattern quindi una regular expression e poi il classico output delimitato da che cosa? sono praticamente del del capturing grouping all'interno del concetto della regular expression quindi qua andrò a mettere slash 1 perché voglio prendere il capturing group 1 se avessi più capturing group all'interno della mia regular expression andrei a mettere quello che mi interessa quindi qua ho fatto una regular expression che va a prendere una specifica riga delle trap che io ricevo e qua gli ho detto prendi le stringhe solo le stringhe dopo no? questi due punti ok? e qui gli dico prendi questa output qua quindi come cosa si vedrà all'interno di Zabbix vedrete proprio questa situazione qui quindi quando nasce un problema lo Zabbix mi mette questo messaggio statico e poi mi va a prendere la parte che mi interessava dalla trap andiamo a vedere come era fatta la trap vedete che io gli ho detto prendi questa parte qua cioè fai una regular expression e prendi questa riga e mi estrai questa informazione qui avrei potuto fare questo avrei potuto fare quello che volete ma era solo per farvi vedere il concetto ok? detto ciò ragazzi è stato un po' lungo questo video non era banale mi rendo conto ma se avete dei dubbi e delle perplessità mettetele qua sotto nei commenti al video vi ricordo chiaramente il canale Zabbix Italia iscrivetevi così magari commentiamo eventuali dubbi o perplessità siamo veramente in tanti quindi io non lo so se ce la farò perché da qualche giorno mi sono trasferito in un altro paese quindi per un po' di tempo quindi ho qualche difficoltà nel rispondere a tutti devo anche lavorare però se mettete dei commenti o scrivete su Telegram magari cercherò di darvi una risposta magari saranno altri ragazzi che vi daranno delle risposte però provateci dovrebbe essere abbastanza semplice io vi lascio comunque i link all'interno della descrizione per oggi è tutto io vi ringrazio un saluto da Dimitri e da Quadrata ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti